Gentili telespettatori, buona giornata. Giggino Di Maio, o Ministro, si dimette dal segretario nazionale di impegno cifico il suo partitello con il quale ha tentato la rielezione e gli è andata male. Lui e tutti quelli che l'avevano seguito, però d'altronde non aveva altre possibilità. Cosa poteva fare? Stare nel Movimento 5 Stelle e aspettare la fine del lavoro? Ci ha provato. È uno che ha carisma, si era fatto su anche Letta, che gli aveva promesso un posto, ma il suo partito ha chiuso le elezioni del 25 settembre con lo 0,56. Se lui, essendo in una coalizione, avesse raggiunto l'1%, avrebbe avuto un posto. in Parlamento. Se avesse avuto il 3% sarebbe entrato come partito, ma se avesse raggiunto almeno l'1% lui sarebbe riuscito ad entrare. Invece, con lo 0,56 tagliato fuori. Tagliato fuori nonostante era in una coalizione. Che succede? Succede che, a quanto apprende un'agenzia di stampa, Luigi Di Maio, o ministro, non è più il segretario nazionale di impegno civico. Le dimissioni sono state ufficializzate nella giornata di ieri e comunicate al direttivo del partito. c'è anche un direttivo del partito. Ecco. Ha capito che con impegno civico non vai da nessuna parte. nel senso che... poteva rimanere segretario magari, al chissà, le prossime elezioni, poteva magari puntare a entrare con il PD, con la sinistra, da qualche parte. Secondo me è stato troppo frettoloso. Doveva rimanere lì, aspettare, vedere come andavano i sondaggi. Sai, alla fine è uno che c'ha il seguito, o ministro, c'ha il seguito. Lui frettolosamente si è anche cancellato dai social. Non sbaglio. Il ragazzo aveva milioni, non lo so, diversi milioni di seguitori. Vuol dire che comunque una persona con un certo seguito chiudere i social e dare le dimissioni del segretario nazionale vuol dire buttare all'aria quel capitale umano che lui era riuscito a conseguire. Secondo me ha fatto un errore troppo precipitoso. Troppo precipitoso quello di Giggino Di Maio, o ministro. E' stato troppo precipitoso. Non si sa mai, potevi rientrare in gioco in qualche modo, rimanevi segretario, ti facevano qualche comparsata in televisione, prendevi anche qualche soldo per l'apparizione in televisione. Un poco alla volta, magari, quel 0,56 poteva in una coalizione diventare alla prossima volta un 1% e riuscire a tornare in Parlamento. Perché non so che lavoro possa andare a fare Giggino Di Maio, o ministro. Che lavoro volete che va a fare? Sì, lo so, le bibite, ma dai, a parte gli scherzi. Ovviamente Di Maio non tornerà mai a vendere le bibite sugli spalti del San Paolo. Però, naturalmente, dopo... Quanti anni è che Di Maio è in Parlamento e come ministro? Se si è fatto furbo, un po' di soldi li ha messe da parte, magari ha comprato qualche casa, l'ha affitta. Perché realmente... Che fa Giggino Di Maio o ministro oggi? Boh! Secondo me non fa assolutamente niente. Anche perché ancora gli stanno arrivando i soldi da ministro. Lui ha smesso di essere ministro ieri. Quindi oggi è il 22 di ottobre, ancora questo mese è stato pagato come ministro e come parlamentare con un bel 18.000 euro. Pertanto, non è che è disoccupato da tempo, è disoccupato da oggi. Da oggi ha sbaraccato al Ministero, ha portato via le sue cose, però non è un disoccupato di lungo corso, è un disoccupato da poche ore. Comunque, Secondo me è troppo precipitoso Giggino Di Maio o ministro. Forse si aprirà una pizzeria tipo Salvo del Grande Fratello, potresti andare in società. Siamo in società, di noi, di lui ti puoi fidare, potrebbe andare con Salvo del Grande Fratello e fare la pizzeria. Da Salvo e Giggino o ministro. Salvo del Grande Fratello e Giggino o ministro. È proprio scritto o o o ministro. due o, tre o, 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 o ministro. O, 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 o ministro. Vabbè, insomma, a parte gli scherzi, avete visto che The Economist ha fatto una brutta copertina contro l'Italia mettendo la Premier che ha dato le dimissioni con una forchetta con gli spaghetti, uno scudo a forma di pizza, un elmetto degli antichi romani. Insomma, ci sono un po' di stereotipi, no? pizza, spaghetti, antichi romani. Insomma, l'Italia ha una gigantesca, importante cultura, ecco. Però, loro, l'intento sulla copertina dell'Economist era proprio spaghetti e pizza sono i cibi più ricercati al mondo, risponde l'ambasciatore italiano con una lettera per cercare di sistemare un po' sta gente qua dicendo la lettera integrale così dell'ambasciatore Lambertini dopo l'ultima copertina del settimanale. Spaghetti e pizza sono i cibi più ricercati al mondo, ma l'Italia è la seconda industria manifatturiera d'Europa. risponde così l'ambasciatore italiano sulla copertina ispirata a vecchi stereotipi. Va bene, il testo poi integrale dice leggere l'Economist è un piacere per ogni diplomatico e come ambasciatore italiano nel Regno Unito a maggior ragione dal momento che dedicate un'attenzione costante all'Italia tanto amata dai britannici. Come nel caso dell'ultima copertina sfortunatamente è ispirata a vecchi stereotipi nonostante gli spaghetti e la pizza siano gli alimenti più ricercati al mondo come seconda industria manifatturiera d'Europa per la vostra prossima copertina vi suggerisco di effettuare una scelta tra i nostri settori aerospaziale biotecnologico automobilistico o farmaceutico qualunque sia la scelta accenderà un riflettore più accurato sull'Italia anche tenendo conto della vostra non tanto segreta ammirazione per il nostro modello economico e così l'ambasciatore gli è nadette quattro come dire mettete spaghetti e pizza sono gli alimenti più apprezzati e consumati al mondo in qualunque parte del mondo andate trovate una pizzeria dove vi fanno anche gli spaghetti però se volete mettere anche l'aerospazio la biotecnologia l'automobilistico il farmaceutico io gli metterei anche la moda la nautica la cultura le belle arti insomma cose che gli altri stati se le sognano di notte e non vedranno mai neanche col binocolo bravo ambasciatore in maniera gentile gli hai fatto capire che un po' insomma abbastanza dozzinali superficialotti grazie a tutti e arrivederci a presto